È un clem che mi piace molto perché me lo sento molto addosso e quindi potrebbe essere facilmente una vignetta questa, non è scuso che la faccia nelle prossime ore. Io con le parole voglio dire che ho costruito una carriera praticamente, quindi anche con la scomposizione delle parole, anche la disposizione delle parole all'interno delle immagini per me è determinante per far capire il senso. Poi ovviamente mi sento D'Annunziano per tanti motivi, tra cui questo, e quindi sono sempre onorato di partecipare a questa settimana. Sono mancato nel 2021 però diciamo che l'ho vista nascere, quindi sono molto contento ogni volta che vengo qui. Destra e sinistra pari sono, diciamo che poi ci stanno quelli che ti danno più spunti, altri che te ne danno di meno. Il centro-destra appare un po' più coeso rispetto alla sinistra, quindi quando c'è troppa pace, troppa coesione, c'è un po' di difficoltà. Però tanto sono sicuro che prima o poi anche lì qualche mila scoppierà. Io faccio un tipo di satira comunque abbastanza garbata, c'è la mia cifra comica, non è quella dell'attacco feroce, ma è quella della metafora, del linguaggio quotidiano portata sui grandi temi, quindi difficilmente ci si arrabbia.